Benvenuto, sono Daniele Cottino sul web Giacomo Sader e sono il direttore dell'Investment Club. In questo video voglio aiutarti a costruire in modo ottimale un portafoglio di investimento affinché tu possa ottenere i miei stessi risultati. Tanto per scendere nel pratico e dirti qual è l'output di questa strategia permettimi di darti alcune indicazioni sui rendimenti passati che io ho ottenuto applicando esattamente i tre step che voglio condividere con te. Ovviamente ti invito ad essere scettico sui dati passati perché il futuro difficilmente sarà la ripetizione di ciò che è successo nei mesi scorsi o negli anni scorsi. Però sappi che utilizzando la strategia che ti insegnerò hai ottime probabilità di ottenere risultati simili o anche superiori compatibilmente con quello che faranno i mercati finanziari. Dal 1 gennaio 2013 il portafoglio Prudente ha reso in maniera complessiva totale il 25,24%. Il portafoglio conservativo ha reso il 30,35%. Il portafoglio dinamico ha reso il 40,76%. Il determinato ha reso il 46,22%. Come ho fatto a ottenere questi rendimenti? Beh, la prima cosa che ho fatto è impostare una strategia. Cioè, per ciascuno dei miei portafogli ho stabilito una perdita azionaria massima e ho stabilito una macro ripartizione fra azioni e obbligazioni. Io sono partito dalla quota azionaria, affermo restando che naturalmente tutto ciò che non è investito in azioni è investito in obbligazioni. Anzi, in realtà ho stabilito tre livelli di investimento azionario. Una quota minima, una quota mediana e una quota massima. Cerchiamo di capire perché. La quota azionaria massima corrisponde al massimo rischio accettabile. Ovviamente tu non potrai avere una quota azionaria pari al 100% per il semplice fatto che se vuoi costruire un portafoglio prudente o conservativo vorrai limitare le perdite, quindi non potrai essere investito in azioni neanche quando i mercati andranno molto bene. Anche perché il fatto che i mercati siano andati molto bene lo saprai solo dopo. Quindi è meglio essere prudenti e settare una perdita massima a cui corrisponde un investimento azionario massimo e non superare quel livello lì, di modo che se anche le cose dovessero andare male comunque tu sei tutelato. Meno intuitivo è capire il livello minimo di azioni da inserire in portafoglio. Questo corrisponde a una quota azionaria da tenere sempre in maniera costante perché i mercati sono imprevedibili. Io non so dirti cosa capiterà di qua i prossimi mesi o i prossimi anni però so che, perché ci sono dei studi statistici anche molto autorevoli che lo dicono, che la performance di un portafoglio decada in maniera molto rapida se tu vai a togliere, perché li perdi, i primi 10 o 15 giorni in cui i rendimenti sono stati più alti. Ora, siccome questi giorni non sono mai consecutivi e tu non puoi sapere naturalmente quali saranno sarebbe un grave errore impostare un portafoglio che ha una quota azionaria che varia tra l'x per cento e lo zero perché se tu sei scarico di azioni e per caso, per tua sfortuna il mercato azionario cresce, naturalmente non fai la performance. Il valore invece mediano corrisponde a quello medio all'investimento azionario fatto in tempi standard. Stabilite questi tre livelli, quindi anzi quattro livelli obbligazioni e azioni poi suddividendo la parte azionaria in tre, minimo, medio e massimo sei in grado già di avere dato un'ossatura al tuo portafoglio. Che cosa ti resta da fare? Ti resta da ottimizzare il portafoglio stesso capendo, e di questo parleremo nel prossimo video che ti invito a guardare perché sarà pubblicato il 2 maggio a capire in ogni momento di mercato se è meglio stare sul minimo, sul medio o sul massimo. In attesa del prossimo video ti chiedo la cortesia di commentare questo video stesso per aiutarmi a esserti utile per capire qual è il tuo feedback per poterti rispondere e per poter esserti ancora più utile nelle tue scelte concrete di portafoglio. Io ti aspetto il 2 maggio con il prossimo video dedicato all'ottimizzazione.